Lo sapevamo che il Napoli avrebbe dovuto affrontare un momento molto difficile, complicato, a cominciare dalla partita contro l'Inter e fino al match contro la Juventus, quello in programma il 6 gennaio. Otto partite di altissima difficoltà, tra l'altro contro cinque formazioni che sono in lotta o per lo scudetto o comunque per un posto in Champions League. La difficoltà era già nota nei fatti e nelle gare, ma adesso è diventata ancora più pesante perché il Napoli sta perdendo pezzi su pezzi. Avevano cominciato Osime e Nanghissà nella notte maledetta di San Siro, molto sfortunata, con un risultato, quello di 3 a 2, che comunque non rispecchiò per intero le occasioni che si crearono. Poi contro il Sassuolo tutto il resto, Coulibaly fuori, Insigne fuori, Fabian Ruiz fuori e di questi tre calciatori raccontano che forse soltanto Fabian Ruiz potrebbe recuperare per la gara di domenica contro l'Atalanta che è l'avversario peggiore che si possa affrontare in questo periodo. Ultime quattro partite di campionato, quattro vittorie, 12 gol segnati, è spugnato l'Allianz Stadium con un gol dell'ex Zapata e Napoli che dovrà fare a meno di Osime, di Anghissà, di Insigne, di Coulibaly e forse anche di Fabian Ruiz, oltre a Spalletti che è stato squalificato per due turni dopo la rabbia che gli era salita forte durante la sfida contro il Sassuolo. Ora però si è sempre detto che le squadre forti si vedono nei momenti difficili e più difficile di questo il momento per il Napoli non poteva essere. Ora vedremo quanta validità, capacità e soprattutto quanto potranno le alternative della squadra azzurra riuscire a sostituire quelli che non ci saranno. È un'impresa complessa, dura, però sappiamo benissimo che Spalletti ha molto esaltato le alternative di cui dispone e che probabilmente utilizzerà con una frequenza decisamente maggiore rispetto al passato. Il conforto è che sono tornati sia Politano che Unas che potranno dare una mano al tecnico magari anche per la sostituzione di Insigne e poi c'è Lobotka che sta dimostrando partita dopo partita di essere un calciatore diverso da quello che i tifosi del Napoli avevano visto quando è arrivato a vestire la maglia azzurra. Poi è tornato anche Demme, l'unico problema sarà quello di sostituire Coulibaly. Se Manolas riuscirà ad essere nuovamente convocato già che è fermo da metà settembre giocherà a lui oppure nel caso contrario toccherà all'accoppiata Rachmani, Juan Jesus provare a fermare il ciclonico attacco dell'Atalanta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.